Questo primo incontro è finalizzato a definire un protocollo scientifico che ci dovrà consentire non solo per la rete del settimo tronco di Autostrade per l'Italia, ma per tutta l'infrastruttura gestita da Autostrade per l'Italia, di valutare in maniera appropriata la sicurezza dei viadotti esistenti e valutare anche quelle che sono le condizioni d'uso, ovvero le eventuali condizioni improprie, perché non ci scordiamo che queste sono opere viadotti fatti 50-60 anni fa, costruite con certe previsioni di carico e che oggi ovviamente hanno delle previsioni diverse. E quindi individuare anche le condizioni di transitabilità, eventualmente, qualora ci fossero delle criticità e delle condizioni di adeguata manutenzione per preservare l'opera nel tempo, ovviamente. Nel momento qual è la situazione in generale? Beh, la situazione in generale è difficile da dire perché è un discorso che fa parte di una mappatura che la società concessionaria, in questo caso Autostrade per l'Italia, ha fatto e c'ha nei suoi archivi. La situazione in generale non può essere descritta in termini. È importante che sulla base di quella mappatura, sulla base di quelle che sono i rilievi fatti in passato, a quelle condizioni accertate a seguito di sopralluoghi, che venga applicato il modello di calcolo, il protocollo scientifico che noi stiamo definendo e che oggi abbiamo avviato con l'intervento dell'istituzione universitaria, dell'Università di Trento, che ha scelto proprio, ha individuato la società concessionaria ed è proprio quello strumento che poi applicato a tutti i viadotti della società concessionaria ci dirà qual è lo Stato e quindi se viadotto per viadotto, se è necessario fare degli interventi oppure no.